Prologo Ad ogni parola ci sembra di soffocare. Vediamo un albero fiorito, un eroe, una donna, l'astro del mattino e gridiamo A. E nel nostro cuore non c'è posto per altro. Quando tentiamo di analizzare questo A e di convertirlo in pensiero e in arte, per diffonderlo tra gli uomini e salvarlo dal nostro stesso destino di corruzione, come si svilisce in parole sguaiate e imbellettate, vuote e fantasiose. Una notte ho fatto un sogno. Ero chino su una pila di fogli e scrivevo, scrivevo, scrivevo. Ansimavo come quando si sale un ripido sentiero di montagna. Combattevo per la salvezza e per salvare me stesso. Duellavo con le parole, davo battaglia per domarle e le sentivo balzare attorno a mere calcetranti, simili a puletre selvagge. D'un tratto, chino com'ero, sento uno sguardo penetrarmi fin dentro la testa. Sollevo terrorizzato gli occhi e di fronte a me ecco un nano, con una barba nera lunga fino a terra. Mi fissa e scrolla piano il testone, sprezzante. Spaventato, piego di nuovo il capo sotto il gioco e ricomincio a scrivere. Ma quello sguardo, spietato, continua a trapassarmi la fronte. Alzo ancora gli occhi e di nuovo vedo con paura il nano che continua a scrollare la testa, in un misto di sconforto e biasimo. Ed improvviso, per la prima volta nella mia vita, mi sale dalle viscere un senso di disgusto e di indignazione per queste carte in cui mi sto perdendo, per i libri, l'inchiostro, per la mia lotta empia che si sforza di racchiudere l'anima entro modelli di bellezza. Mi sveglio con in bocca ancora una sensazione di nausea. Dentro di me si leva una voce severa, come se a parlare fossi il nano. Hai sprecato la tua vita in tentativi vani. In fondo a ogni strada sta seduta la vittoria e aspetta, ma tu hai sempre fretta, ti manca il coraggio e torni indietro. La massa degli uomini non vede le sirene, non presta attenzione ai canti nel vento. Ciechi e sordi continuano a remare, chini nelle stive della terra. Invece gli eletti, i capitani, prestano ascolto alla sirena, che hanno dentro di sé la loro anima, e trascorrono insieme una vita magnifica. Quale altro valore, pensi, abbia la vita? Infine gli storpi ascoltano le sirene, ma non credono, perché troppo prudenti e codardi, e passano la vita a soppesare i proi contro sul bilancino dell'orafo. Poi muoiono, e Dio, non sapendo dove gettarli, perché non siano un decoro nell'ade e una sozzamacchia in paradiso, ordina che siano appesi a testa in giù in balia del vento, in una condizione eliminare fra corruttibile e incorruttibile. Tu sei storpio, un fardello pesante, e provo vergogna a portarti con me. Scuoto la testa a mia volta e rispondo, mi sono spinto fino agli estremi, e alla fine di ogni strada ho trovato l'abisso. Ciò che hai trovato è semmai la tua incapacità di proseguire. Diamo il nome di abisso a ciò che non siamo in grado di domare con un ponte. Non esiste abisso, non esiste limite, esiste soltanto l'anima dell'uomo, che assegna un nome a tutte le cose, in base al proprio coraggio o alla propria viltà. Cristo, Buddha, Maometto, hanno trovato l'abisso, ma gettato un ponte lo hanno superato. Sono gli eroi, sono i pastori che guidano oltre il precipizio le greggi degli uomini. Qualcuno diventa eroi per grazia di Dio, altri a prezzo della propria lotta. Io combatto. Eroi, dici? Ma essere eroi significa obbedire a un ritmo che trascende l'uomo. Tu invece sei ancora tutto un fremito di inquietudine e di ribellione. Non sei in grado di arginare il caos dentro di te e di stillare il logos sopuro. E ti giustifichi piagnucolando. Le vecchie forme mi vanno strette. Invece, affinando la tua tecnica, potresti raggiungere i confini dell'eroismo, capaci di contenere dieci anime come la tua in piena attività. Andando alla ricerca della verità, sia pure monca e umana, potresti domare le forze della natura, trovare e scrivere leggi in grado di allargare il cerchio della nostra libertà. E perfino a partire dai simboli estenuanti della religione potresti lanciarti verso esperienze divine solo tue, e dare forma attuale alle passioni eterne di Dio e dell'uomo. Sei ingiusto. Il tuo cuore non conosce pietà. Ti ho già sentito, voce odiosa e spietata, a ogni bivio in cui mi fermavo per fare una scelta. Mi sentirai sempre, in ogni tua fuga. Non sono mai fuggito. Vado sempre avanti, lasciandomi alle spalle ciò che ho amato, ed è uno strazio per il mio cuore. Fino a quando? Non lo so. Finché non raggiungerò la mia vetta. Lassù mi fermerò a riposare. Non esiste nessuna vetta. Esiste soltanto l'altezza. Non c'è riposo. Odio il tuo corpo, la tua anima, la tua mente. Non ne posso più. Non voglio più proseguire il viaggio con te. Questa voce spietata, la tigre mia compagna di viaggio, mi ha sempre accompagnato, nonostante il suo odio, in tutti i miei viaggi. Ogni cosa l'abbiamo vista e vissuta insieme, assaporando cene e vino sulle tavolate dell'esilio, così pure le sofferenze, e insieme abbiamo gioito di montagne, di donne e idee. Quando poi, carichi di bottino, coperti di ferite, torniamo alla nostra fresca e quieta cella, ecco che la tigre si avvinghia silenziosa alla mia testa, proprio in cima. Lì è la sua tana. Si adagia a coprire tutto il mio cranio, mi affonda gli artigli nel cervello, e ripensiamo a quanto abbiamo visto e a quanto ci resta da vedere. Condividiamo la gioia che tutto questo mondo, visibile e invisibile, sia un insondabile mistero, profondo, incomprensibile, al di là della mente, del desiderio e della certezza. Parliamo molto, la tigre compagna di viaggio e io, e ridiamo del nostro essere così duri, teneri e insaziabili, consapevoli che senza dubbio una sera, la nostra cena, sarà una manciata di terra e ci sazierà. E quando siamo di buon umore, o al contrario ci tormenta una profonda tristezza, giochiamo e mettiamo Dio tremante a cantare inni commossi alle sventure umane. Che gioia è questa, Dio mio, vivere e vedere, giocare con la tigre e non avere paura, e svegliarti una mattina e poter dire, le parole, le parole, non esiste altra salvezza, a mia disposizione ho solo 24 soldatini di piombo, le 24 lettere dell'alfabeto, annuncerò la mobilitazione generale, metterò l'esercito in allarme e vincerò la morte. Lo sai bene che la morte non si sconfigge. Ma il valore dell'uomo non è la vittoria, bensì la lotta per la vittoria. E sai anche questo, la cosa più difficile. Non è nemmeno la lotta per la vittoria. Il valore dell'uomo si misura esclusivamente in questo, vivere e morire con coraggio, senza aspettarsi nulla in cambio. E infine, terza cosa, e ancor più ardua, approdare alla certezza che non esiste un compenso capace di colmarti di altrettanta gioia, orgoglio e coraggio.